ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per il secondo video di oggi in questo video come avrete visto nel titolo andremo a trattare il colore della settimana il colore della settimana qualcuno di voi se lo riguarderà sul mio vecchio canale che ogni settimana cambiavo un colore moddato nella mia crew secondaria dove tutti potrete iscrivervi liberamente senza nessun problema potrete entrare e uscire quando volete e potrete mettere questo colore sulle vostre auto allora lascerò anche in descrizione il codice esadecimale del colore magari qualcuno di voi ha una crew potrà metterlo nella propria crew e alternarlo non so come volete voi allora questo è il colore ragazzi questo bellissimo rosa questo è un rosa neon oppure non so rosa evidenziatore può sembrare uguale al rosa del custom ragazzi ma non lo è non lo è adesso vi faccio vedere dove cazzo sta questo rosa eccolo qui questo è il rosa del custom io adesso lo monto e andremo a vedere che non è uguale vedete non è per nulla uguale e questo colore è molto particolare perché è molto più acceso del rosa pister che sta nel custom è molto più bello da guardare insomma adesso non si vede un cazzo perché è notte infatti quando faccio sti video sempre è notte non si sa perché mi pare che ce la converto dopo però vabbè non fa niente adesso lo vedete comunque è al buio questo colore ma mi dirigerò nel garage così potete vederlo in maniera più più concreta insomma sotto le luci del garage e niente per chi volesse questo colore lascio in descrizione sia il codice esadecimale di questo colore di questo viola neon o viola insomma rosa neon o rosa evidenziatore come volete voi e lascio anche il link della mia crew secondaria dove potete trovare questo colore per tutta questa settimana nel senso che per i prossimi sette giorni insomma avremo questo colore in crew nella crew secondaria che è libera a tutti un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti